Tutta la storia di oggi è falsa. E' bello stare all'aperto, è bello stare con questo fresco, è interessante vedere questi film. Poi mi piace molto soprattutto il direttore artistico che ho prima della proiezione e da molte spiegazioni inerenti alla rassegna cinematografica. Villa Film Festival è spumeggiante. Fantastica, meravigliosa, che consiglio a tutti quelli che si trovano nei dintorni di Tivoli e anche di Roma. La cultura sicuramente, insomma, il valore della cultura è fondamentale. La Perimetro è un video che ho realizzato diversi anni fa, nel 2000 ormai. E' un'azione svolti in maniera solitaria da una persona che viene ripetuta più volte. E quello che ho cercato di portare dentro questo lavoro era la sensazione di qualche cosa che naturalmente doveva accadere, ma che in realtà per una forma di costrizione non accadrà, non accade mai, cioè il contatto del corpo con l'acqua. L'Azzaro Felice credo proprio che sia il suo migliore e credo anche che sia uno dei migliori film italiani degli ultimi anni. La figura del protagonista è un po' la figura greca del Kalos Kakatos, cioè dove la persona che è buona non può che essere anche bella. È un film che prende delle strade improvvise e non sai dove effettivamente poi queste strade porteranno. Ci si chiede oggi se Cristo fosse ritornarsi come verrebbe accolto, potrebbe essere accolto come Jesus Christ Superstar, oppure semplicemente sarebbe l'ultimo dei reietti. Ecco che anche su questo la regista in maniera assolutamente poetica ci illustra. Appena l'hai fatta, una cosa è finita. L'arte è un sistema per cambiare.